La crisi di Sigonella ancora oggi viene citata come esempio d'Italia che non si piega sulla politica estera. Dopo il sequestro della nave da crociera Achille Lauro nel 1985, montò il disaccordo tra Italia e Stati Uniti sul destino dei sequestratori della nave, appartenenti a un'organizzazione terroristica palestinese. Craxi, presidente del Consiglio allora, si contrappose alla richiesta americana di consegna immediata dei palestinesi, chiesta dagli Stati Uniti, che avevano intercettato e dirottato i terroristi diretti in Tunisia alla base americana di Sigonella, dove furono scintille tra carabinieri e Delta Force.